Tutto pronto alla Leopolda per la costituzione del nuovo partito di Matteo Renzi. Anche da Spezia ci sarà una delegazione che partirà alla volta di Firenze. Sarà una vera e propria carica dei cento, diciamo così, un centinaio di persone guidate innanzitutto da giovani amministratori ma anche da tante famiglie che hanno deciso di partecipare a questo evento. Un evento che di fatto sancirà l'inizio ufficiale di un nuovo percorso, venerdì, sabato e domenica alla Leopolda. Nelle due settimane scorse sono nati più di 30 comitati a livello provinciale per aderire a Italia Viva. Questo è un segnale di straordinaria importanza. L'importanza anche dei giovani amministratori del nostro territorio che traineranno il gruppo e anche ovviamente i due sindaci primi della Liguria ad aver fatto la scelta di adesione al partito di Italia Viva, ovvero Battilani e Bertoni, che saranno presenti a guidare questa nostra delegazione di cento persone che sarà presente dalla Spezia e dalla provincia alla Leopolda nel weekend. Quali saranno le tematiche su cui si sveloperà l'azione politica di Italia Viva? Dal punto di vista di proposte è necessario anche dal punto di vista territoriale soffermarci su tre temi, su tutti. Il primo ovviamente è sul futuro della centrale Enel e le contraddizioni in termini portate avanti sia dal sindaco Peracchini che da Totti e dalla stessa regione Liguria. Ovviamente la presa di posizione è netta sul biodigestore. Noi ad Arcola siamo stati primi a imporci sulla linea del no in considerazione del fatto che la provincia della Spezia non può accogliere i rifiuti che vengono da Genova e dal Tiguglio, quindi diventare la pattumiera della regione. E poi su tutti il tema della sanità, dove fondamentalmente sia il sindaco della Spezia Peracchini che Totti, ma soprattutto l'assessore alla sanità viale che non si è quasi mai vista sul territorio giocano a nascondino con il rimbalzo di responsabilità al passato dimenticandosi che una forza che amministra deve dare risposte e non colpe a chi c'è stato prima. Anche la nostra azione politica a livello provinciale si concentrerà ora nel prossimo settimana su questi temi molto cari alla cittadinanza.